Abbiamo qui il nuovo LG Cookie Fresh, un cellulare di LG dedicato espressamente ai giovani. Sarà disponibile in varie colorazioni, nero, rosa, come vediamo qui blu, oltre anche all'arancione. Il telefono è sottile, abbiamo una presa per microfono e cuffie da 3,5 mm. Sul retro una fotocamera da 2 megapixel e una connessione USB per il collegamento al computer e al caricabatterie. Il telefono è un modello con touchscreen da 3 pollici, non ha tastiera integrata, l'interfaccia è personalizzabile e include anche una radio FM. Per quanto riguarda la parte social, invece, sono presenti client di Facebook e Twitter integrati. Il telefono verrà venduto fino a fine maggio in esclusiva con Vodafone, a un prezzo estremamente aggressivo.